Possiamo digitalizzare il Paese se rimarrà consistente un'economia sommersa e questo è il vero problema. Quindi non è solo il problema dei 100, 110 miliardi, 120 miliardi che sono sottratti dal circuito legale, certo che è un problema quello, sono somme consistenti, ma è chiaro che se noi andiamo a modernizzare il Paese per renderlo più avanzato, per farlo correre, quella crescita del PIL, per non avere più una sofferenza congenita nella produttività, nel prodotto interno lordo, non potremo mai raggiungere questo risultato perché potremo digitalizzare quel che vogliamo, una grande percentuale dell'economia del Paese rimarrà sottratta alla digitalizzazione. Il modo per raggiungerlo però è un modo dolce, fair, gentile. Non abbiamo mai pensato di imporre penalizzazioni a chi non si conforma, lo avete visto col piano cashless, a chi non si conforma a questo che dovrebbe essere una buona pratica dei pagamenti digitali. Adesso stanno per arrivare per dire questo recovery fund e quindi stiamo chiamati a elaborare nell'ambito di questo piano di rilancio poi un più specifico recovery plan italiano. Ovviamente nell'ambito di questo, perché questo c'è tutto il programma, l'azione di governo di rilancio, all'interno di questo poi andremo a individuare e presenteremo a settembre un piano specifico di recovery, quello italiano. Tenete conto che ovviamente dovremo selezionare alcuni investimenti specifici che entreranno in questo progetto finanziato dall'Europa. Ebbene, anche lì, immaginate, ci sono, c'è la possibilità per evitare aggravi, per esempio, per i commercianti, per quanto riguarda i pagamenti digitali. Cioè abbiamo la possibilità di chiedere investimenti per la strumentazione, per tutte, cioè possiamo chiedere investimenti per favorire una transizione dolce, gentile, verso questo piano di pagamenti digitali. Non vogliamo quindi penalizzare nessuno, piuttosto quindi incentivi ai pagamenti digitali, piuttosto che penalizzazioni nel caso in cui non ci siano ancora, non ci si adegui ai pagamenti digitali. Questa è la filosofia del Governo. In questo ci piacerebbe, con tutte le difficoltà che dobbiamo scontare, che voi foste pienamente partecipi di questo patto. Ovviamente ci sono tanti altri progetti, ma insomma non voglio parlare io, siamo qui per ascoltarvi, poi sentiremo anche i ministri.